Una serie di considerazioni in apertura di quello che è il nostro incontro e il nostro mandato. Sento e sentiamo, credo di poter dire, la responsabilità di guidare un'azienda che ha costruito la storia della comunicazione contemporanea in questo Paese. Personalmente sento anche il peso di un incarico in cui, lo dico apposta in questa commissione, è stato Sergio Zavoli, per cui non è banale per chi ha fatto il mio lavoro sedersi e occupare lo stesso ruolo. È evidente che ci troviamo come RAI a un punto di svolta. L'anno scorso abbiamo parlato della storia, abbiamo celebrato i 90 anni radio e 60 di TV. Quest'anno, adesso, dobbiamo capire quale parte di quella storia può diventare la base su cui costruire il progetto che ci porta nel futuro. Sappiamo una cosa, per certo, che dobbiamo essere molto rapidi. Il mercato, la competizione globale e la tecnologia, per cui la fruizione, per esempio, della televisione è sempre meno lineare, ci impongono scelte immediate per determinare che cosa di quei valori e di quel progetto culturale vogliamo proiettare sui prossimi decenni. Il 2016 sarà l'anno in cui dovranno essere riscritte le regole e il senso del nostro essere servizio pubblico. Per questo il dibattito, che io personalmente ritengo necessario sulla concessione, mi sembra un punto di partenza indispensabile per sentire la voce di tutti quelli che considerano la RAI un pezzo fondamentale della propria storia, della propria vita e del proprio essere comunità e paese. Grazie. Grazie.